Primo febbraio 82 nasce Radio DJ, fino ad oggi vi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso che festeggiati siamo noi ci mettiamo dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo. Forti Forti, in ogni puntata una voce storica di Radio DJ, sull'app di One Podcast, sull'app di Radio DJ e su tutte le principali piattaforme. DJ Riavvolge Riavvolge Grazie a tutti. 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 Buongiorno ragazzi, buon lunedì a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il signor come la moto. Grazie a tutti. 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 C'è anche una... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. per un indone per un indore. quella che la... Grazie a tutti. in realtà sono da collezione. Perse tutte. però vedi, però vedi, però vedi, è un'altra... ma non mi hai convinto. per me i social network. che manca... e mi sarei perso... i figli... non puoi fare... quasi niente in più. anche io le mail, e... 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 la comunicazione... c'erano... c'erano già prima... e... e approfittiamo... l'immediatezza della radio... che funziona anche senza... senza internet se volete... e... 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 mamma mia... il che può... e... dei social... e... e... oggi... no... e... 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 ... e... 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 e...